buongiorno amici finalmente il sole finalmente senza guanti finalmente senza giacca maniche corte il gilet per il vento dai oggi è domenica fantastica domenica questo è aciclabile che è una strada ma è poco trafficata fighissimo da quasi fastidio al sole non sono più abituato ieri dopo tre giorni sono riuscito a asciugare i piedi che aveva i piedi fratici da tre giorni ieri finalmente con un po di sole si sono asciugati sono stato ospitato a casa di due gentili vecchietti che dove sono riuscito a farmi una doccia sono riuscito a lavare due stracci ho lavato i calzini che che momenti camminano da soli caricato telefono caricato tutto quindi siamo efficientissimi super efficientissimi e da ieri anzi da stamattina visto che domenica abbiamo anche si vede la radio è domenica dai ci voleva un po di compagnia un po di musica un po di sound british sound bene continuiamo verso non più nord oggi si va verso ovest se andiamo a york stasera domani probabilmente andremo a visitare un po la città bene bene bellissimo qua che posto che posto bellissimo col sole ciao ciao buona domenica